Una coppia e una cena per il vincitore del candid'album. I bigliettini elettorali degli 800 candidati hanno offerto a Casa Pound e blocco studentesco l'assist per lanciare un originale concorso a premi, una raccolta di figurine che ricorda quella mitica dei calciatori, l'album Panini. Una provocazione promossa dalle due associazioni di giovani mirata a sottolineare la corsa sfrenata in atto d'Avellino per una portrona o una sediolina a Palazzo di Città che si intitola Alla Faccia Tua. Da collezione invece la vetrina di bigliettini mostra al Caffè Monte Cristo in Piazza Libertà, un locale diventato in questa calda vigile elettorale ha anche un animato set di scambi ed esposizione. E così tra un caffè e un buon cornetto è facile sentire uno slang più da calciofilo che da politicante. Ce l'ho, non ce l'ho, questo è ripetuto, l'altro è raro, quell'altro ancora è facile. Da un primo sondaggio sono i big della politica quelli più ricercati che meritano miracoli a parte per il loro illustre trascorso, anche l'aureola di Santini per entrare in possesso di un calibro da 90. Infatti bisogna sganciare almeno una ventina di bigliettini di pivelli della politica locale. Sorrisi e sguardi ammiccanti, slogan che promettono di cambiarti la vita, i candidati ora che siamo al rascio finale, la partita se la vogliono giocare fino all'ultimo bigliettino. I loro volti sono talmente familiari che te li ritrovi dappertutto, in tasca, nell'agenda, sotto il parabrezza dell'auto, dopo il porta a porta. E' scattato il marciapiede al marciapiede, attenzione a dove mettete i vostri piedi. E' scattato il marciapiede al marciapiede, attenzione a dove mettete i vostri piedi.